Da bambini noi ci arrangiavamo in tutte le maniere, non per questo non ci si divertiva. A palla, sotto muro, i maschietti giocavano con le lattine della birra, diciamo, le lattine di ferro. Poi si faceva una buchettina per terra e con delle palline di terracotta si giocavano, zipidin, zipidè, bucacè. Era un gioco che ci si passavano le ore, ma quelli erano i giochi nostri a campana, le femminucce giocavano a campana, a nascondino. Quelli erano i giochi, non c'erano giocattoli. Mi ricordo una volta che noi, essendo papà che lavorava al poligrafico, avevamo la Befana. Ci davano la Befana, noi più piccoli, e arrivò una paperella per me e un altro gioco per mio fratello che ha due anni più di me. Però passata la Befana, questa paperella è sparita, cioè la Befana era ripassata e si era riportata via i giocattoli. Mamma diceva perché eravamo stati cattivi, ci aveva portato via i giocattoli. Ciò che l'anno dopo è arrivata la paperella con la bambola, perché ci avevano dato altri giocattoli e mamma aveva messo vicino alla paperella la bambola, per me che ero più piccola. Grazie. Grazie. Grazie.